I concerti del Garileo sono una stagione che viene organizzata dall'Associazione Musica Incontro, un'associazione senza scopo di lucro, che nasce qualche anno fa con lo scopo di dare voce ai giovani. È un'associazione creata anche dai giovani, c'è il collegamento maestri e allievi, che è una cosa abbastanza inutuale. I concerti del Garileo sono un po' l'emblema di questa filosofia, perché sono organizzati in una scuola, ingresso libero, quindi apposta per i giovani. Stiamo cercando di estendere la cosa a tutte le classi, ed è una cosa a cui teniamo molto. Tra l'altro quest'anno ci sono molti più concerti rispetto agli altri anni, ci sono circa dieci concerti. Sono nuovi concetti, una grafica nuova, ci stiamo rinnovando sempre. Ci stiamo rinnovando pian piano, le musici incontro con questa era a Firenze, piano piano. Quindi ringraziamo molto la direttrice artistica, Federica Ferrati, che ha creato questo mondo dove i giovani musicisti possono dire la loro e avere un'occasione in cui farsi vedere. Grazie per te! Grazie a tutti